Le persone sono invitate alla consapevolezza dei rischi delle malattie cardiache e di come affrontarle, mentre le autorità sanitarie celebrano la giornata mondiale del diabete. Il legame tra le due condizioni è noto da tempo, ma studi recenti suggeriscono che, anche se non si soffre di diabete, un livello leggermente più alto di zuccheri nel sangue aumenta il rischio di problemi coronarici. Ricercatori britannici hanno anche scoperto che le donne hanno meno probabilità degli uomini di ammalarsi di diabete. Nell'Unione Europea più di 32 milioni di persone convivono con la malattia, cifra raddoppiata negli ultimi dieci anni.